Berlusconi che fa un po' pena perché era a votare il contrario di quello che votava prima e questo francamente impedisce che si possa fare accordi alle amministrative. Monti è un dramma, era rappresentante in Italia dalla banca americana che ha innescato la crisi mondiale. La padagna si farà a tutti i costi, costi qualche cosa, si farà la padagna.